Ciao ragazze, brevissimo video giusto per ricordarvi che su facebook è in atto un secondo giveaway sempre in collaborazione con whatsapp questo è stato indetto sempre da whatsapp per festeggiare il cyber monday che si è festeggiato l'altro ieri, sì perché oggi è mercoledì su facebook trovate tutte le regole, in particolar modo sulla fanpage, quella pagina pubblica che io non uso mai, Sierra Mike esce immediatamente e lì ci sono tutte le regole per partecipare, quindi andatevi a leggere lì tutte le mini istruzioni come sempre saranno due le vincitrici, la prima vincitrice avrà un buono da 50 dollari, la seconda da 30 le vincitrici dello scorso giveaway fatto invece su youtube nel precedente video le trovate nell'info box del video e comunque al massimo ve le riscrivo qui sotto, comunque sono Fasano e Scarlett quindi insomma lì abbiamo già fatto tutto quanto il giveaway scade l'8 dicembre, quello su facebook, quindi insomma affrettatevi inoltre se non ci saranno un minimo 50 persone che parteciperanno al giveaway purtroppo non potrò fare l'estrazione, questa è stata una delle regole di OASAP quindi mi raccomando partecipate e condividete perché ovviamente più persone partecipano più c'è la probabilità che appunto il giveaway vada in porto fino alla fine perché per ora le partecipazioni sono pochissime quindi spero che insomma quest'altra opportunità vi faccia piacere dato che l'altra volta insomma avete partecipato numerose quindi chiunque abbia facebook cercatemi pagina pubblica Sierra Mike, leggete tutte le istruzioni vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video appena mi riprendo da raffreddore ciao ciao